Ultimo match della serata, titolo europeo AFSO della Pro Fighting, Benavaria, con il maestro Andrea Brigadoni all'angolo nostro Nicola De Munche, segreti! Non ci sarà, ma non mi amano invencebile, ma questo non giuro di venti, non mi tratto smorfia il grido, frezzata al sangue dalla sorte, non si piegava la mia testa, di ala questo luogo vira e lacrime, si staglia solo l'orrore della fine, ma in faccia i miei incriminacciano, solo e sarò sempre, in vento e pato, non importa qual cosa sia la morte, quanto impietosa la sentenza, sono il padrone del mio vestito, la caminata è la mia anima. Grazie a tutti! 18-20, 10-20, campioni di torneo, Vennup, T1 e 21-16. All'angolo, Clube, con 35 incontri minuti, 7 mezzi, due volte campioni del mondo della Gemmaia, 10 mezzi, con il maestro di Firefighter, Stradivini, ora let's go! Salute Inizio prima ripresa. 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 Grazie. 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 Amare. 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 Tienesco del pienso. Amare. Fai. Ni tu daste spese. Grazie. 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 And you're going to give us theirBoots victory last week! Papadnev! Prophetic victory. Alright, guys, have a great day! Un applauso per i figli dell'Europeo Lato, vice, blanco rosso, ricorda le uniche semeri! Un applauso per i figli dell'Europeo Lato, vice, blanco rosso, ricorda le uniche semeri!